Anche quest'anno in piazza del plebiscito tanti bambini per festeggiare l'epifania con la Befana dei Vigili del Fuoco, appuntamento diventato una tradizione che si rinnova con diverse iniziative per i più piccoli allestite nella piazza simbolo della città. C'è Pompieropoli, il percorso ludico creativo con automezzi speciali e poi lo stand degli istruttori nazionali della cooperativa La Gioiosa che hanno illustrato le manovre di disostruzione delle vie aeree, pizze sfornate dal pluripremiato Vincenzo Varlese e libri di fiabe in regalo. Ma il momento più atteso è l'arrivo della Befana che dall'alto della piazza ha lanciato caramelle per tutti i bambini. Organizzata dal Comune con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la festa della Befana ha visto la partecipazione dell'assessore all'istruzione Anna Maria Palmieri e del sindaco Luigi De Magistris. Quest'anno la Befana insieme al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Associazione dei Vigili del Fuoco che ringrazio perché insieme al Comune abbiamo ideato qualche anno fa questa iniziativa della Befana in piazza, molto bella insieme anche come vedete ad altre associazioni, musica, solidarietà, cultura, impegno civile e istituzionale ogni giorno. È una città che grazie alla competenza, alla professionalità e alla passione di tanti sta facendo cose molto importanti con pochi denari ma con tantissima energia, idee, umanità e cuore grande come abbiamo dimostrato anche in questi giorni.